Smaltita la delusione dell'eliminazione della Coppa da parte dell'Inter, un'eliminazione che raga penso che ci brucerà per molto tempo, bisogna girare pagina perché tanto è inutile stare qua a piangersi addosso, bisogna girare pagina e pensare a quello che andrà fatto. E oggi volevo parlare di questo fantomatico Progetto Milan, quello che tutti chiamano Progetto Milan, però prima volevo dirvi due cose, una velocissima perché qualcuno mi ha chiesto della maglia, questa maglia mi è stata regalata da www.lusosoccia.com Ve lo lascio a chi è interessato nei link al primo messaggio che trovate, ve lo metto lì. Se usate il codice sconto BENZINERO5 vi faranno uno sconto rispetto a quello che trovate sul sito. Seconda roba raga, bisogna voltare pagina perché il Milan è uscito nella sua storia da situazioni ben peggiori di una sconfitta in semifinale di Champions, siamo usciti dalla B e siamo usciti tutti insieme, uniti, lottando per la nostra maglia. Io ve lo dico sempre, io tifo la storia, i colori, la maglia del Milan, tutto il resto a me è fotte un cazzo. Però so che tutti insieme ne usciremo da questa situazione se impareremo la lezione, se questa società imparerà la lezione, se questa società imparerà a capire cos'è per noi il derby, che ho già capito che è totalmente differente da quello che pensano loro, se capiscono che per una squadra come il Milan non esiste perdere quattro derby consecutivi. Ora voglio vedere se questa cazzo di società avrà un scatto di orgoglio, se vorrà superare l'Inter. Perché ieri lui, che è solitamente un giornalista che a me sta sul cazzo perché spalla solo merda, ha detto una cosa importante, c'è una grande differenza tra l'Inter e il Milan. L'Inter ogni anno costruisce per vincere, con l'obiettivo di vincere, vedi l'acquisto di Lukaku, vedi l'acquisto di Michitalia, fotendosene dal bilancio. Si cerca ovviamente di abbassare un po' le spese facendo qualche cessione, però poi punta a vincere. E lo si vede anche dagli ingaggi, hanno un monte ingaggio superiore al nostro, nonostante la marea di debiti che hanno. Mentre il Milan punta su un progetto, un progetto giovane, ma alla società Milan non fotte un cazzo di vincere. Non gliene frega niente che ieri siamo stati eliminati in semifinale dall'Inter, sono contenti di essere arrivati in semifinale, l'ho sentito dalle parole, perché economicamente gli sono entrati tanti soldi. Fa niente che abbiamo perso contro l'Inter e per noi è stato veramente un macigno. Non hanno queste ambizioni, a loro non gli interessa di vincere il campionato, l'importante è arrivare nei quattro, a loro gli interessa di arrivare nei quattro. Questa è la differenza di progetti. E allora a noi ci sta bene o non ci sta bene? A me non sta bene, io voglio una società che punta a vincere. Ed ecco perché parliamo di questo fantomatico progetto giovane, un progetto che io in primis ho sposato. A me non piace avere una rosa di gente vecchia, io voglio una squadra giovane. Però raga, siamo passati a un estremo incredibile. Cioè un conto è avere una squadra giovane, un conto è una squadra di bambini che devi aspettare. Dove cazzo vuoi andare con una squadra così? C'è andata bene l'anno scorso perché abbiamo fatto un campionato strepitoso, sono andate bene tante situazioni nel gruppo e tutto, ma con una squadra così giovane? Dove si può andare? Si vince una volta ogni dieci anni. Invece il progetto giovane dovrebbe essere il contrario di quello che ha detto Maldini quando ieri ha parlato di Dybala, se volevo rinforzare prendevo Dybala, mi costava di meno. E invece non è il progetto della società, non è il progetto che abbiamo condiviso. No, ma io non lo condivido questo progetto perché io cento volte Dybala a De Kettler, perché è De Kettler, giocatore da aspettare, siamo sicuri che esploderà. Se non esplode è buttato via 35 milioni, ma poi la squadra va bene, un po' di giocatori di 20 anni, un po' di 21, ma poi bisogna buttare dentro l'esperienza se vuoi vincere. Giocatori di 28, 29, 30 anni che hanno un po' di carriera alle spalle, che sanno gestire certe situazioni, che sanno fare certe partite, ma soprattutto bisogna inserire giocatori pronti, che fanno crescere i 20 anni, non giocatori cotti, giocatori pronti, perché noi passiamo da un estremo, qui 20 anni, 21 anni, 22 anni, a poi 35 anni, 38 anni e 42 anni. Cioè non ha senso, raga, non ha senso. Cioè questo io voglio che capisca la società. In una squadra di 11 giocatori van bene 3, 4, 20 anni, ma poi 7, 27 anni, 28 anni, 29 anni, ci vogliono. Se no saremmo qua a incazzarci tutti gli anni, tutti gli anni. Io voglio sì un progetto economicamente sostenibile, però non troppo, non all'esasperazione. Io sì, mi sta bene avere un tetto in gaggio, ma quando c'è da fare dei sacrifici, che non vuol dire il rinnovo di Benassera a 4,5, vuol dire 6, 6,5, per giocatori che valgono davvero, li si deve fare in nome del risultato. Raga, a me del bilancio, ve l'ho detto anche ieri, non me ne frega un cazzo. E questo progetto deve essere un po' rivisto, un po' rivisto. Perché nel prossimo mercato non si può prendere ancora dei 21 anni, 22 anni. Ce li abbiamo già, dobbiamo inserire 4, 5, 6 giocatori pronti. E ve lo dico, per costruire una rosa non si può solo spendere i soldi. Ci sono anche i parametri zero, e in giro ci sono parametri zero forti, che bisogna andare a prenderli, perché noi dobbiamo inserire 3, 4 giocatori forti già negli 11 titolari, ma poi c'è da rifare la panchina. E con i giocatori a parametro zero, cazzo, la panchina la rifai prima. Cioè noi siamo distanti tanto, non solo qualitativamente, dall'Inter, ma siamo distanti anche come esperienza in campo. Raga, non so se l'avete visto, ma cazzo, ma c'è, la prima partita ci siamo cagati addosso. Ci sta a 20 anni, 21, 22. Cioè, ci sta. Ma questo deve cambiare. Base solida di gente pronta. E poi intorno giovani, basta giocatori over 30. Basta, non ci servono un cazzo, sono bolliti. Possono fare una partita sì e una partita no. E sì, Monkier, che può giocare una partita e l'altra deve stare in panchina perché si rompe. Non ci serve un cazzo. Non ci serve un cazzo. Poi lo capisco anch'io, la questione Giroud, Ibrahimovic, basta. Che poi un giorno ci spiegherà cosa è successo, perché ve lo dico io, che all'interno dello spogliatoio avete visto che Ibra non è più come l'anno scorso, che caricava, che faceva, che stava vicino alla squadra. Perché per me, raga, è stato delegittimato, è stato messo in un cantone, perché a qualcuno dava fastidio, che si diceva, che si vinceva grazie a Pioli. E poi si sono visti i risultati. Io sono convinto di questa cosa, e poi magari, e me ne prendo le mie responsabilità, magari dico una cazzata. Però è stato troppo il cambiamento. Però basta rinnovare il contratto come calciatore a questa gente. Mi tengo Giroud perché capisco che non si possono comprare quattro attaccanti l'anno prossimo. Però due attaccanti forti, due bisogna prenderli. Giroud e Colombo. Origi, Rivic, fuori dai coglioni. Fuori dai coglioni. Questo è il progetto che secondo me deve fare. Se invece continueremo col progetto che ha mostrato Maldini, raga, mettiamoci il cuore in pace. Ne subiremo altre dibattoste. Ditemi come la pensate, raga, sempre Forza Milan. Iscrivetevi al canale, pollice in su e benziniano.